Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo mostrare qualche accessorio e qualche inquadratura che uso nei miei video di snowboard, specialmente in fuori pista. Un accessorio che non può assolutamente mancare a chi fa fuori pista e usa la dopro è il pole. Io ho preso il freeway per questioni di spazio, è comodo, si chiude così, metti in tasca, un altro accessorio che generalmente in snowboard non uso è l'adesivo sul casco, però in fuori pista l'ho rivalutato perché non riusciamo a vedere bene i movimenti, le carvate, quindi l'ho rivalutato. In sostituzione a chi non vuole usare il casco, chi non vuole attaccare l'adesivo sul casco è la fascia elastica che potete benissimo mettere sul vostro cappello e riprendere avere lo stesso tipo di inquadratura uguale e identico. Il pole può essere usato in due modi diversi, il primo tipo di ripresa è con la GoPro rivolta verso di noi, il secondo tipo è con la GoPro rivolta verso un soggetto che stiamo riprendendo. Questa ripresa è suggestiva perché in fuori pista possiamo alzare diciamo polveroni di neve quando snowboardiamo e quindi di per sé è una ripresa molto interessante. Invece possiamo anche fare appunto un altro utilizzo quindi quello di riprendere qualcuno che sta snowboardando. Vi consiglio per questo tipo di ripresa di impostare il super view perché rischiamo altrimenti di non rientrare per interi nella ripresa ma di rimanere tagliati come appunto nel primo video che ho messo. Ragazzi il video finisce qua, spero vi possa essere stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, fatemi sapere se usate altri tipi di accessorio, altri tipi di inquadrature e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!